Sindaco parliamo di petrolio, guardo il gagliardetto del cortino calcio, mi viene in mente il Qatar, mi viene in mente gli Emirati Arabi, mi viene in mente il Paris Saint Germain, scherziamo ovviamente. Allora com'è la storia del carburante della stazione di servizio? Allora guarda Giancarlo, tagliamo subito la testa al toro, ci tengo a dirlo. È un errore, mi riassumo tutte le responsabilità perché io sono alla testa della macchina amministrativa e mi sembra giusto assumere la responsabilità di questo. Però da qui a dire che c'è stato un furto per me ce ne passa tantissimo, anche perché se avessimo voluto fare questo probabilmente avremmo aumentato il prezzo 5 giorni prima. Dove c'erano state scene di ordinaria follia? Di ordinaria follia, gente che è venuta a caricare con le tanniche, basta pensare che il giorno prima se non sbaglio il comune aveva incassato 4.300 euro dal carburante, dalla pompa di benzina. L'incasso medio? L'incasso medio? Io ti posso parlare di annualità, nel 2021 sono stati ordinati 100.000 litri, che con ricarico come dice Minosse di 4 centesimi fanno 4.000 euro l'anno. E lo sconto poi è residente? Ecco, questo mi preme sottolineare questa cosa, perché Minosse cita il regolamento redatto da lui un po' a suo piacimento, ma lo porto qui e l'ho anche sottolineato. Ci deve anche spiegare il perché i cittadini residenti nel comune di Cortino, i possessori delle abitazioni, non hanno mai usufruito della benzina a prezzo di costo, cosa prevista dal regolamento. Diciamo che c'è stata un po' di disattenzione in quel periodo, come c'è stata un po' di disattenzione in questo periodo. Esatto, probabilmente la verità è una, è che la pompa di benzina è perennemente imperdita, perché tra il mutuo e i costi di manutenzione, questi costi non riescono a essere coperti dall'utile che facciamo dalla vendita della benzina.